Adotta un albero del pomario di Villa Smeraldi Sezione a cielo aperto del Museo della Civiltà Contadina Unico frutteto di varietà antiche aperto al pubblico presente sul territorio bolognese Aiutaci a mantenere in vita il pomario Partecipa al Crowfounding E raccogli con noi i frutti del tuo impegno www.ideaginger.it 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 www.ideaginger.it